La chiesa della Capitale solitamente dice la via Cuncina delle confraternite romane, una proiezione che si rinnova dal 1999 a presiedere la Monsignor Antonio Ingecuglietti. A cura ricanti Santa Maria del Cardino a Trastele, la stazione di partenza alla chiesa di Santa Maria all'orazione morte in Nervia Giulia, le meditazioni conclusive a San Giovanni dei Ferentini. E' seguita poi la preghiera finale e la benedizione per i tanti fedeli e i confraterni delle diverse concreterazioni, ognuna delle quali ha un proprio abito solenne e un amante.